Buongiorno amici di diversi canali social da parte di Gian Vito, coach life and business che ama definirsi artigiano di emozioni. Oggi una videotessimonianza per rispondere ad una domanda che da un poco di tempo mi arriva da diverse parti. Chiamo un coach solo per fare un percorso predefinito di cambiamento ed evoluzione in uno spazio temporale breve e medio termine, due o tre mesi, o posso appoggiarmi alle competenze di un coach anche per una soluzione di un blocco che mi tiene emotivamente fermo da un punto di vista personale o professionale. Allora, per quanto mi riguarda, io lavoro per far sì che ogni mio coach sia protagonista della sua vita e non una semplice comparsa. Quando capita, naturalmente, sono estremamente felice di poter guidare chi sente bisogno a porsi domande che aiutino a prendere consapevolezze sane, per quel diritto di prendersi cura di se stessi e di riflesso anche delle persone che ruotano intorno a noi. Così come sono felice quando chi chiede anche una consulenza breve di due sessioni one shot, trovare con me il nodo da sciogliere e il suo nodo emotivo e davanti ad una scelta importante essere, ripeto, protagonisti e non semplici e comparse. Oggi qui con me una testimonianza in tal senso, Cristina. Ciao, Cristina cara, ti vuoi presentare tu stessa? Assolutamente sì. Mi presento così. Dicono di me che io sia solare, empatica, intraprendente e dinamica, propensa all'ascolto e dedita, diciamo, anche alla risoluzione dei problemi. Ma dico di me di non essere abbastanza sicura, abbastanza preparata, abbastanza all'altezza di qualcosa che mi fa paura e abbastanza coraggiosa. Ciao, sono Cristina, ho 52 anni e da qualche tempo ho deciso di fare, di seguire il consiglio di Gian Vito e quindi di diventare protagonista della mia vita. Hai utilizzato una parola alla quale io tengo molto, il coraggio. Coraggio, azione che viene dal cuore, dico sempre io. Senti Cristina, qual è il tuo nodo da sciogliere quando mi hai contattato? Allora, ero molto in ansia per un incontro, un confronto tra colleghi che avrei dovuto appunto affrontare. Quindi mi sono ritrovata veramente spaisata. Senti, e che cosa ti è piaciuto del nostro incontro-scambio che è stato poi di breve durata? Ci sono fatti uno barra due incontri. Allora, innanzitutto la tua capacità di rassicurarmi. Senti, ricordi che cos'è cambiato in quel momento condiviso e come ti ha fatto sentire dopo il nostro incontro? Sì, è cambiata la consapevolezza dei miei diritti e della mia libertà di parola e di espressione. Ok, e che cosa ti è piaciuto particolarmente di quella sessione one shot che abbiamo fatto insieme? Allora, diciamo che in particolare tu mi hai invitata a dire la verità, a parlare e a rispondere con calma e mi hai invitata soprattutto all'ascolto e quindi a lasciar parlare dall'altra parte e ad essere quindi padrona anche dei miei pensieri e delle mie parole. Ok, ok. Sì, che poi sono parole che quando noi poi rimaniamo in ascolto con attenzione spesso arrivano parole che dentro di noi hanno dei click emotivi e quei click emotivi fermati, io dico sempre, fermati, pensi e agisci perché a volte arrivano i click emotivi di pancia, dobbiamo trasportarli al cuore e alla mente in modo che quello che diciamo poi diventa proattivo per il nostro obiettivo. Senti Cristina, la maggior parte dei miei clienti sono persone con valori etico-sociali ed emotivo-evolutivi che sono molto alti. Cos'hai scoperto durante il nostro breve incontro che non conoscevi o non pensavi di conoscere di te? Allora ho scoperto che con la giusta tecnica si possono affrontare situazioni per noi difficili e grazie a questo superarle brillantemente. Ok, e cos'è accaduto subito dopo al riguardo del nodo da sciogliere che avevi condiviso perché era un nodo abbastanza impegnativo per te emotivamente? Allora per me quello era un colloquio piuttosto ostile quindi dopo il nostro incontro mi sono sentita più serena e liberata da un peso perché in fondo dovevo solo essere me stessa e non aver paura di dire la mia verità, quello che sentivo. Tu sei stato per me un pronto soccorso quindi ti ho quasi costretto ad aiutarmi proprio senza nemmeno un preavviso e questo è a dimostrazione che tu praticamente non sei una persona costruita ma vivi ciò che insegni e quindi sei stato abile e brillante nel supportarmi in quel momento e per me è stato è stata una scoperta incredibile. Hai utilizzato una metafora fortissima che ho accolto con piacere il pronto soccorso che ora detto così che non è fai l'anamnesi capisci che cosa studi la strategia. Ti arriva il pronto soccorso uno che ha bisogno urgente di e devi avere la capacità di tirare fuori quell'azione che è funzionale per la soluzione di un di un di un nodo da sciogliere assolutamente ti ringrazio molto metafora molto molto bella senti suggeriresti una sessione di coaching di questo tipo anche e solo per uno due barra tre incontri assolutamente sì perché io ho fatto un'esperienza bellissima e ancora me la porto dietro per cui quella quelle piccole come dire dritte no lezioni che ho ricevuto che ho ricevuto da te quel giorno sono ancora adesso me li porto con me per altre situazioni quindi lo consiglio assolutamente però siate un po' clementi con lui avvisatelo un pochino prima non fate come ho fatto io. Vabbè ma in quel momento ci avevo ci avevo uno spazio tempo che abbiamo condiviso e quindi l'ho fatto con con estremo piacere mai 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 tirarsi indietro anche perché cristina io sono dell'idea e questo è uno è uno degli ostacoli che molti devono superare che chiedere aiuto è la cosa più difficile del mondo e quando una persona ti chiede aiuto e non ti puoi rifiutare di aiutare perché momento che una persona ti chiede aiuto e ti tende la mano in quel tendere la mano c'è c'è l'unione di due c'è l'unione di due forze che che diventa importante questo naturalmente amici ascoltatori se siete seriamente motivati a decidere un cambiamento di mindset motivante funzionale per una scelta che sentite importante in quel momento della vostra vita in caso contrario però potete sempre riempire il form che trovate in allegato in ogni commento e prenotare la call gratuita come ci ha detto cristina in tempo questo per accedere alla selezione che faccio ogni mese perché ogni mese lavoro con un massimo di cinque cocci perché il percorso diventa protagonista della tua vita un percorso abbastanza abbastanza intenso alla fine il cambiamento la trasformazione l'evoluzione della tua persona dipende solo da due fattori fare una scelta e portarla avanti vuoi essere protagonista o comparsa della tua vita io intanto ti ringrazio di cuore cristina per questa testimonianza per questa luminosa testimonianza e auguro a tutti gli ascoltatori una buona continuazione di giornata ovunque voi siate con chiunque voi siate sorridete alla vita un saluto buio